Ciao a tutti, in questo video come vi accennavo nel precedente, quello sulla chiusura del progetto smaltimento 2020 vi vorrei parlare un po' in generale del make up del 2020 e mostrarvi anche un po' di acquisti che avevo fatto nell'arco dell'anno e che non vi ho mai mostrato alcuni pensate che sono ancora nella scatola d'imballo, pertanto che me ne è fregato in questo periodo di qualcosa vi ho accennato e qualcosa no cominciamo dalle cose che ho qui più vicine questo correttore qua è il camouflage matte di Essence, ce l'avevo nel contenitore delle scorte l'ho aperto a fine estate perché avevo fatto il video dei prodotti make up high cost e in quel video vi chiesi se volevate vedere anche quello dei prodotti low cost e mi è stato detto di sì, perciò avevo promesso che l'avrei fatto ma quando sono andata a vedere i prodotti low cost mi sono accorta che ce n'erano pochi al che in un momento di sconforto dico vabbè voglio aprire un nuovo correttore che faccio ne apro uno low cost così nell'occasione lo provo e lo aggiungo nel video ma l'ho usato poco, in ogni caso mi piace, è un bel correttore, mi dispiace per il colore che è molto molto chiaro forse avrei dovuto prendere un pizzico più scuro, lui è il 10 light rose cerco di mostrarvelo però la luce fa un po' schifo mi piace molto, mi piace molto come formula va poco nelle rughette del contorno occhi e se lo metto con la spugna è meglio così non si nota troppo la pesantezza ovviamente con la spugna è più leggero l'effetto quindi si nota di meno lo stacco perché è veramente chiaro anche per me ma non male, non male prometto che prima o poi registrerò il video dei prodotti low cost spero che vorrei fare un saluto alla ragazza che me l'aveva richiesto insieme al video dei prodotti high cost perché prometto di farlo, se mi segui ancora prometto di farlo prima o poi intanto vi faccio questa carrellata del 2020 e questo insomma l'avevo aperto apposta per fare quel video ma poi non l'ho più fatto, comunque mi piace, mi piace tanto l'ho usato al posto di quelli che avevano nel progetto smaltimento per dirvi poi siccome io poi mi ero dimenticata ma nel progetto smaltimento mi sa che avevo messo anche la cremina con tornocchi di Youngblood del campioncino che avevo e quando ho finito quella ho comprato da MAC la Fast Response Eye Cream che è praticamente una crema con tornocchi ma fondamentalmente silicone e la consistenza è quella perciò io la uso semplicemente come base vedete proprio un colore bianco satinato ovviamente l'ho messo qui vicino è una cremina siliconica senza odore in teoria c'è anche acido ialuronico ma la parte sarà talmente minima che assicuriamoci mi piace, mi piace, si comporta bene e non fa andare male non fa funzionare male i prodotti che ci metto sopra più che altro questo perché alla fine ho usato quel correttore principalmente non è male, non è male ma ovviamente mi trucco poco no, stavo pensando al fatto che non sopporto più il sito di MAC perché ho provato mille volte a comprare il cleanser quello per i pennelli il liquido per pulire i pennelli io li lavo con acqua e sapone i pennelli però magari se a volte vado di fretta potrei usare quello e volevo tanto provare quello di MAC l'ho ordinato mille volte sul sito e non me l'hanno mai mandato l'ultima volta al posto di quello mi hanno mandato un rossetto viola al posto del cleanser ma sulla fattura c'era scritto che avevo comprato il cleanser non il rossetto ho provato a dirgli che ce l'ho sigillato ancora ho contattato il telefono ma non rispondevano nessuno e la voce registrata diceva di scrivere l'email scrivo l'email per dirgli guarda che io non l'ho toccato faccio il reso così o mi rimborsate o mi mandate il cleanser non mi hanno calcolata di striscio io ho ancora sto rossetto viola sigillato viola cioè già non mi metto i rossetti per di più viola fosse stato un bel colore quasi quasi l'avrei tenuto ma era un'edizione limitata con una confezione dorata mi ricordo e quindi niente non comprerò più sul sito di MAC perché ogni volta che ho provato a comprare quel prodotto cioè lo danno disponibile lo compro e invece non è disponibile o si sbagliano a mandarmelo e quindi niente acquisterò MAC o di persona se capiterò in qualche negozio in futuro o negli altri siti rivenditori però lui comunque è buono mi piace poi da Carlo Tilbury comprai sempre penso in estate mi ricordo diversi prodotti però credo di aver tenuto in memoria solo di loro non ricordo se c'era qualcos'altro perché l'altro prodotto che vi farò vedere l'ho preso proprio a fine anno comunque abbiamo il duo contouring in crema io avevo paura a comprarlo perché ho detto figuriamoci se riesco ad usare dei prodotti liquidi allora aspettate me li devo avvicinare perché non ci vedo allora questo è il fair medium del contour wand fair medium contour wand e lui è il beauty light wand illuminante nel colore spotlight questi si vendono insieme se li comprate insieme sul sito di Charlotte costano leggermente di meno ovviamente se li prendete singoli o se li prendete da Sephora dovete beccare qualche promozione cerco di farveli vedere anche loro mi sono piaciuti tanto perché hanno una sfumabilità pazzesca poi hanno il click per aprirli e chiuderli così non si disperde il prodotto ora questo è il residuo che c'è qui non voglio farlo uscire perché poi è uno spreco vedete che si vede ma non è pesante non è instagram style per dire è bello è bello davvero si sfuma si sfuma e magnifico lo vedevo dire e poi luce è lui il contour wand io avevo paura fosse troppo forte perché spesso nei video forse le ragazze esagerano forse i video amplificano e avevo paura questo ve lo faccio vedere anche sfumato in realtà ok qui sembra pazzesco però speriamo che riesco a sfumarlo bene come sul viso vedete ora sul video è sempre macchiato però non è così dal vivo ovviamente stratificando si ottiene un effetto ora mi sa che non vedete più niente con sta luce stratificando si vede un effetto molto naturale di viso scolpito sono dei prodotti fantastici poi se avevo voglia di caricare un po' di più ci andavo a mettere sopra lui che è il mini film star bronze and glow adesso ce l'hanno anche da sephora però all'inizio ce l'avevano solo sul sito ed è il classico duo è più delicato di questi cioè questa parte illuminante è più delicata del light wonder però sono belli anche loro è comunque chiari cioè sono prodotti chiari chiari e stratificabili infatti mi sa che non riuscite a vedere niente quasi niente e io sono diventata probabilmente amante di questo genere di prodotti più naturali sul viso e mi ci trovo meglio davvero meglio sono contenta di aver voluto provarli non prenderò l'Hollywood Flawless Filtler che hanno praticamente tutte perché quello lo farei andare male io il viso luminoso cioè spatacchiarmi in faccia ha troppa luminosità se ce n'è poca e mirata in alcuni punti del viso allora sì come in questi casi quindi loro assolutamente promossi se io devo fare un video sui top 2020 io vi direi soltanto questi qua questi tre assolutamente poi ho comprato lui però l'ho comprato mi sa prima di prendere questi forse perché poi mi sono dimenticata di lui è il questo l'ho preso quando è uscito lo skin bronzing soft revenge che era l'unico dei colori più freddo anche lui non è niente male non è niente male perché è un colore freddo non è eccessivamente freddo ma si è asciutto sì e mi piace infatti l'ho comprato e ho sostituito al prodotto di The Balm la famosa terra di The Balm perché quella era troppo scura per me e pur sfumando la facevo da anno invece con questo questa è una versione più delicata della terra di The Balm per quanto mi riguarda e anche lui si sfuma bene per l'estate per me è il prodotto perfetto ovviamente l'ho usato un po' d'estate sì ma questo era uscito all'inizio dell'estate io ora capite non ho memoria perché questo 2020 per me è come se non fosse esistito io spesso continuo a pensare di essere nel 2020 perché per me è come se non fosse esistito penso un po' per tutte noi però insomma durante l'estate da Colourpop ho preso lei la Wild Notting che ve l'ho accennata vi ho nominato che ce l'avevo e volevo fare un video applicazione di questa palette è troppo caruccia intanto la confezione cioè il primo motivo per cui l'ho comprata è la confezione con questi cactus questo è il retro è una delle palette 12 colori senza specchio è molto bella, delicata ciò che ho notato sappiamo che Colourpop è famosa per gli ombretti quelli mono molto luminosi, molto belli e vi confermo che i prodotti shimmer di questa palette sono pazzeschi sono veramente belli gli opachi invece sono tranquilli tanto che c'è una differenza gli shimmer sono eccessivamente pigmentati belli, bellissimi gli opachi insomma normali e quando si applicano sugli occhi si nota sta differenza cioè spaccano tanto questi shimmer si notano praticamente solo gli shimmer sugli occhi quando si indossano entrambi è una bella palette molto delicata molto in sintonia con i miei gusti attuali però l'ho usata un pochino d'estate poi non l'ho più usata e la mia amichetta Zelda a cui mando un grande grande bacio mi aspetta da mesi le devo mandare delle cose da mesi e ancora mi aspetta è una cara amica mi ha mandato queste due cose in beauty adoption ok la iMagic la palette che aveva spopolato tantissimo un paio di anni fa l'ho usata una volta ho usato adesso qua c'è lo specchio ho usato aspettate non si piega quindi ve la metto così ok la vedete sì ho usato Mallory che è fantastico sempre perché è in sintonia con i miei gusti attuali poi sono sicura di aver usato Vamp per scurire la palpebra ma preso in maniera leggera perché così vedete ce n'è tanto e nella piega intermedia devo aver usato o Winky oppure wine non lo so non sono sicura non sono sicura comunque spero riusciate a vedere sono belli pigmentati in realtà mi è piaciuta tanto non le ho dato lo spazio che merita perché vi ripeto non mi sto truccando quindi insomma l'ho usata una volta credo a novembre a novembre ed eccoci qua e poi ho da mostrarvi il rossetto perché mi ha mandato anche il rossetto di Ever lo 05 questi hanno anche dei nomi però io non me li ricordo qual è il nome di questo comunque lo 05 dei liquid lipstick non è male neanche questo però i rossetti proprio 0 lo metto qua è un nude scuro per me fa parte dei nude scuri che attualmente userei per look molto con look occhi molto 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 chiari non mi sta male sono io che in questo periodo ho una faccia molto stanca quindi quando lo metto sembro ancora più stanca però insomma prima o poi lui l'ho provato solo una volta in realtà ok poi cosa ho fatto ho comprato in occasione di una promozione sul sito di Cosmify davano le spese gratis però parliamo sempre di forse ottobre non mi ricordo il profumo di Make Up The Light io purtroppo non sono in grado di descrivervi il profumo però dalle note aveva una doveva avere una fragranza abbastanza leggera ce l'ha ma non non abbastanza da farmelo adorare d'estate cioè è un profumo che io userei d'inverno ma comunque è delicato e quindi adatto a tutti i giorni mi è piaciuto l'ho usato poco perché poi l'ho messo nella confezione perché io alle primi di dicembre dovevo farvi il video dei prodotti o degli ultimi prodotti acquistati in occasione sia del Black Friday solo del Black Friday e vi avrei aggiunto questo ora vi faccio vedere le condizioni dei prodotti comprati nel Black Friday siamo al 20 di marzo oggi il Black Friday è stato a novembre fine novembre questa è la condizione dei prodotti sono ancora qui dentro così ok perché vi dovevo fare il video poi ho messo tutto nell'armadio allora intanto vi dico che da Sephora ricordate che io di Charlotte Tilbury della serie Pilot Hall che vi dissi una volta che al massimo avrei preso solo la matita e durante il Black Friday Charlotte Tilbury scontava quindi io ho presi la matita Pilot Hall e vi confermo che effettivamente è molto rosa è molto più rosa di quello che sembra dai video è lì proprio al limite dei miei gusti io infatti sono convinta che il rossetto non lo so è molto rosa è bella ma è rosa cioè non è bella vi ripeto l'ho comprata sapendo che era rosa non sono così tanto scema però insomma l'ho provata una volta per vedere com'era e poi l'ho rimessa nella scatola così perché poi faccio il video per le ragazze poi niente ok questa è l'unica cosa che ho comprato da Sephora poi ho fatto un acquistino su Nabla beh poi acquistini e ho comprato non ricordavo di averla comprata questa mi credete ricordavo gli altri due prodotti ma lei non me la ricordavo ho detto metto in scorta la spugna questa rossa che mi piaceva tanto per il colore e per la forma particolare lei si chiama Flawless Precision Makeup Sponge durante il Black Friday avevano fatto un sacco di belle offerte da Nabla c'erano le palette anche quella nuova nude che era uscita proprio in quei giorni a metà prezzo però me la sono lasciata scappare perché ho detto tanto tante palette non mi stavo truccando ho detto che compro a fare prodotti occhi poi comprai dei soft touch il rossetto Chloe che di questa serie di rossetti è l'unico che mi aveva intrigato di più non ricordo se è la linea più meno secca meno opaca ora per esempio il Pilotalk mi piace come mi sta ma se indosso questo colore da solo mi sbatte troppo quindi alla fine potrei usarlo su questa matita perché lui da solo come colore mi sbatte un po' ci vorrebbe comunque una matita leggermente più scura a contorno questo perché purtroppo si comprano le cose online anche lui l'ho provato solo una volta è un bellissimo colore ma davvero bellissimo però ecco ovviamente l'ho provato a faccia a viso struccato magari truccando mi avrebbe avuto un effetto diverso e poi ho comprato i pennelli erano usciti i pennelli i vari set colorati dei pennelli occhi però io volevo quelli dorati perché a me piacciono tanto perché ovviamente ho quello dell'illuminante della stessa linea dorata di questi qua perciò ho preso gli altri due del set questi qua il Cheek Shaper e il Bomin Brush ne ho sentito parlare bene poi mi piaceva la confezione ce l'ha come era esteticamente quindi le ho presi entrambi ovviamente non li ho mai usati non li ho mai neanche lavati perché l'ho tenuti qui per fare il video e non li ho mai usati sono tre mesi sì che non mi sono manco truccata però e poi questi qua che mi hanno piacevolmente stupita cioè dal vivo sono molto più belli che in foto e dopo il colore è proprio bello sono proprio belli 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 allora questo è uno è il numero come si chiama precision non si legge precision soft crease questo qui poi questo è liner and brow ok ho sta cosa maniacale di rimettere tutto come si deve lash line smudger questi sono i miei preferiti di solito sembrano anche di buona fattura ne avevo sentito parlare bene però se non li vedo non credo questo è il soft dub and smudge questo è un po' più grandicello poi qui abbiamo il large blender e qui abbiamo il pointed crease questo è bello non è proprio un pennello penna ma è una via di mezzo tra un mini pennello penna e un mini sfumino ovviamente è una spiegazione molto molto professionale tecnica di quelle di cui voi avete davvero bisogno quindi niente questo è ovviamente la pochette che respira perché è forata poi è bella proprio elegante a me queste cose un po' dorate così piacciono un sacco fanno impazzire io infatti in quest'ultimo anno anno e mezzo ho rivalutato abbastanza Nabla più che altro compro le cose che mi piacciono non vado appresso alle mode eccetera eccetera se una cosa mi piace la prendo e questo era in sconto e l'ho preso sono belli belli da vedere magari dovrei lavarli perché ovviamente come li ho comprati così li ho messi qui e così magari li uso sono passati già 19 minuti caspita no è troppo lungo il video quindi in pratica io tutto l'anno ho iniziato con questo covid con molto sprint perché ho detto vabbè comunque mi trucco cerco di non abbattermi io sto seguendo le regole dall'anno scorso io non faccio finta di niente non me ne vado a spasso non per me è come se io fossi in lockdown da un anno quindi sto quasi alla frutta esco solo per lavorare o per comprare roba essenziale in farmacia o al supermercato non sto facendo altro durante l'estate forse due tre volte sono uscita ma sempre facendo attenzione stando lontano alla gente ma basta non c'è stato altro quindi mi sono truccata poco piano piano sono andata ascemando anche negli acquisti infatti questi li ho fatti alla fine di novembre col black friday questi qua e tutto il resto durante l'anno non mi sto truccando non sto seguendo video non sto facendo niente io spero entro l'anno prossimo di tornare un po' come tutte voi alla normalità e di ricominciare a preoccuparmi di queste frivolezze e quindi niente insomma l'anno è stato così un po' le mie tasche ringraziano dico la verità perché vedo le cose sotto un altro aspetto cioè guardo i miei cassetti e penso che ho tutta questa roba e non la consideravo ogni volta che uscivo un nuovo prodotto e volevo comprarlo tuttora guardo le cose le nuove uscite sono meno delle altre anni questo è vero escono meno cose le guardo penso oddio le vorrei per esempio la collezione primaverile di Kiko è bellissima con quelle confezioni rosa cioè io la comprirei per le confezioni e ci ho pure pensato però poi ho detto ma scusa ho tutta questa bella roba perché dovrei comprarmi altre cose ho i cassetti pieni e quindi riesco per fortuna a limitarmi quindi su un fatto di acquisto compulsivo mi aiuta a questo periodo però mi deprime quindi non mi viene neanche voglia di truccarmi diciamo che il riassunto del video è questo e spero vi abbia fatto piacere aver visto queste cose non so se quando le utilizzerò spero insomma prima o poi e niente quindi per il momento è tutto ciao ciao e alla prossima